Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video, finalmente sono tornata con un nuovo video e sono qui, piccolo spoiler, per farvi vedere la mia nuova casa in cui vivo con il mio ragazzo e Simba che è lì piccolino che dorme, eccolo lì, poi ve lo faccio vedere meglio e niente, spero che vi piaccia, per chi fosse il nome del canale, noi prima abitavamo in un'altra casa che però era un monolocale, infatti non vi ho nemmeno mai fatto vedere perché era veramente orribile e finalmente abbiamo trovato un bilocale abbastanza carino, non abbiamo fatto grandi modifiche perché comunque siamo in affitto e non vale la pena, diciamo, spenderci tanto per poi magari cambiarla e però qualche piccola modifica vorrei farla, quindi ad esempio comprare qualche mobiletto nuovo e qualcosa del genere, ancora non ho avuto il tempo di farla perché fra lockdown e tutto è stato un po' difficile però piano piano ce la faremo, tra l'altro fatemi sapere anche se le riprese sono migliori perché ho il telefono nuovo finalmente, non ci dovrebbero essere più problemi dell'altra volta che ogni tanto veniva l'audio sconnesso dal video e cose del genere fatemi sapere e iniziamo subito con le riprese mi raccomando se vedete qualche punto della casa in cui secondo voi c'è andrebbe un mobiletto, un quadro, qualsiasi cosa scrivetemelo sotto nei commenti che io vi leggo sempre a tutti allora ecco, questa è la porta di ingresso poi c'è una porta qui, una porta qui e una porta lì allora io direi di iniziare per prima dalla camera da letto anzi prima magari faccio vedere l'ingresso allora qui c'è un ampio specchio, eccolo qui ci giriamo, qua abbiamo la porta qui abbiamo un termosifonino piccolo piccolo con questo in cui sopra magari ci potrei mettere un vaso con qualche fiore qui appendere qualche quadro perché quelli vecchi li abbiamo fatti portare via tutti citofono, contatore poi qui abbiamo un porta abiti che ha anche uno specchio annesso dove io tengo la mia borsa qua lanciata di solito è più in là lì teniamo il guinzio del cane, le mascherine ombrello appeso, guanti, cappello che ora potremo anche togliere perché fa caldo sigarette, portafoglio, chiavi e qui appendiamo i giubbotti qui tengo la mascherina che sto usando così mi ricordo a quanto ce l'ho e poi la posso buttare chiavi di riserva con quelle della cantina e tutto altri ombrelli, quindi questo è l'ingresso che è abbastanza lungo e poi da sulle altre due porte e qua c'è l'ultima porta iniziamo appunto dalla camera da letto allora prima di tutto bisogna fare un saluto a Cimbini che sta dormendo nella sua cuccia ecco qua vi faccio fare una panoramica generale e poi entriamo più nel dettaglio allora, visto da un'altra prospettiva, lì c'è l'ingresso, qui c'è la porta chiudiamo la porta così se sentite un rumore è il gioco del cane così riuscite a vedere meglio, la porta è fatta così ha in mezzo questo vetro tutto un po' satinato stavo pensando di metterci uno specchio qua però mi hanno detto che è un po' difficile perché bisognerebbe farlo su misura poi si dovrebbe incollare, si novinerebbe quindi niente alla destra della porta abbiamo l'interruttore della luce una ciabatta perché sotto la schivania c'è la fibra e qua c'è la mia schivania che non sono stata a mettere a posto perché noi sappiamo che nel mio canale c'è la vera vita quindi qua stavo facendo delle cose sapete che sono ancora alle prese con l'università qua ho le mie varie penne colorate, evidenziatori qua altri evidenziatori, post-it, questa è l'agenda chiudiamo per non spolierare cose tra l'altro la mia agenda ancora non ve l'ho fatta vedere e questa qua, ho preso questa qua della Mr. Wonderful questo sorriso ti sta benissimo non so manco leggere perché c'è scritto qua il brava Alice, meno male che sei brava tu comunque fatta così, settimanale mi piace molto qua quello che sto studiando e niente subito qua ho questo spazio, qua c'è un altro libro libri ovunque libri ovunque subito qua di fianco alla scrivania tengo di solito le scarpe e gli zaini questo lo uso, quello viola, lo usavo di solito per la palestra questo qua invece lo uso per metterci i libri il computer eccetera adesso principalmente lo uso solo per andare da mia mamma quando studio da lei poi qui sotto tengo i libri che uso di meno le cose che uso di meno anche quaderni nuovi qua ci sono delle figurine che mi ha dato il mio cugino e vabbè poi sopra direte come mai Alice tu hai una torta nella libreria perché questa è una libreria è Billy mi pare no forse non è Billy è quella più piccola dell'IKEA ve l'avevo fatto vedere nell'ultimo video come mai Alice hai una torta perché se no io se no me la metto qua e la metto in cucina mi dimentico di portarla perché l'ho presa per mia nonna che l'ha patita la torta sbrisolona e quando l'ho vista da Lidl non ho potuto che prenderti ecco qui cade un libro ho questo libro di Perché sono vegetariane di Margarita Huck fa molto riflettere lo consiglio che l'ho quasi finito è un po' pesante da leggere e poi ho questo qua questo qua insomma non mi fa impazzire però ne ho già letto un pezzettone anche perché avendo tanti libri da leggere per l'università non ho molto tempo per leggere altro comunque qua ho delle candele alcune nuove alcune già finite che dovrei buttare ma sono disordinata qua ho un quaderno per gli appunti qua ho delle cose una sentenza dei quaderni computer con le cuffie quando ci sono le cuffie che mi ha regalato mio padre che a dir su sono fenomenali quindi noi ascoltiamo altri libri ho il fiamone perché non sono più abituata a parlarvi poi qua sopra ho i pupazzi la ring light la su poi subito di fianco abbiamo il comodino nella parte sotto il cassetto più grande questo è il telefono nuovo tra l'altro S20 F5G poi ho le cover di ricambio delle palette di trucchi tutti i miei gioiellini altri gioiellini questo poi qua è quello un po' più elettronico tutti i cavi lenti a contatto questo è il puliscio gli occhiali utilissimo va bene anche per computer telefono tutte queste cose qua qua sopra un libro perché stamattina ho seguito una lezione e volevo vedere una cosa sul libro questo è il mio diario dei 5 anni che ho comprato da Tiger per chi non lo sapesse dentro ha lo spazio proprio per scrivere 5 anni quindi voi per 5 anni scrivete quello che volete ricordare di quella determinata giornata va avanti così sempre le altre parti le ho scritte dove sono? uuuuuh ecco poi qua ho la mia cassettina dei trucchi la conoscete già qua i cassettini che si aprono tutto un po' impelata poi lo specchio ehi la vabbè carino è tutto sporco anche questo Alice brava bene poi quindi sulla sinistra c'è il letto ai piedi il letto ho la presa per caricare computer telefono e tutto poi se ci spostiamo c'è l'armadio che è enorme sono tre ante enorme non riesco manco a farvelo dare tutto sopra poi teniamo le valigie poi ci metterò anche il cambio di stagione che per adesso non ho messo è un casino ve lo faccio vedere solo perché noi siamo in famiglia solo per quello guardate qua ho accumulato le cose estive buttate così con dei vestiti estivi e qua delle giacche però c'è veramente tutti i vestiti estivi buttati così veramente disordinatissimo e poi in quest'anta invece ho le cose invernali qua ho messo tutti i maglioni e sotto invece le felpe e nei castetti i vari pantaloni e qua in queste scatole ho l'intimo le calze i reggiseni cinture e cappellini insomma vorrei fare il cambio di stagione così almeno sistemo meglio le cose e quest'anta invece di Daniele per la sua privacy la lasceremo chiusa perché non so vi faccio sbirciare poco poco vediamo boom 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 basta allora poi dal letto avevamo detto qui c'è il letto libreria qua c'è la scrivania ci giriamo ovviamente c'è l'altro comodino di Daniele tutto più incasinato lui più disordinato di me ecco quindi se vedete qualcosa in disordine colpa sua qua abbiamo le finestre con le tende che sono di questo blu anche il muro è di questo blu scuro con tutti i buchi che gli inquilini prima non avevamo fatto sopra c'è questo bordino da vecchi e quello bianco è la luce che non abbiamo ancora il paralume come si chiama comunque girando da qua abbiamo termosifone le scarpe di Daniele qua c'è tutta una cosa sua come si chiama questo beh davanzale ecco davanzale all'interno dove lui tiene le cose abbiamo spoilerato del lavoro bene tutto qua poi qui abbiamo questa specie di cassettiera qua c'è un'altra tenda dove teniamo principalmente le cose per pulire per aggiustare cose e questa invece è la scatola di medicina qua sta qua sta qua sta qua questa qua è per caricare l'orologio qua abbiamo la scopa insomma l'aspirapolvere niente di che sotto invece la cassettiera abbiamo le ciotole del cane con qualche suo giochino tra l'altro Simba mentre noi facciamo questo se la dorme beatamente beatamente non so neanche parlare bene la cassettiera è un po' mista però vi faccio vedere i miei qua ho le cose di cartoleria qua tengo tutti gli evidenziatori insomma li sto finendo tra l'altro è che ne avevo presi 1500 qua invece tutti i miei bigliettini io ho un sacchetto con tutti i bigliettini che conservo dei nastri per fare i regali ecco ogni tanto abbiamo questi problemi tecnici altre cose invece questi qua sono di Daniele dove tiene dei documenti niente di interessante e qua invece tiene i suoi ricambi per il lavoro quindi li butta così quando torna da lavoro e bom ora vi ho fatto vedere questa parte quindi ritorniamo nel corridoio quindi qua c'è la porta d'ingresso noi abbiamo visto questa camera qui col Gimby tra l'altro ha appena fatto due anni Simba e gli ho regalato questo pupazzo che suona anche vero Simba a forma di leone perché lui è il leone il re della savana amore mio e allora andiamo in questa porta dritta che mi vedete allo specchio quindi immaginate cos'è visto che c'è un lavandino il bagno bene appena si entra al bagno sulla destra abbiamo la la lavatrice eccola qua con tutte le varie cose per lavare a cappacolore eccetera eccetera poi abbiamo la vasca da bagno che però abbiamo immediatamente trasformato in in doccia mettendoci la la tenda fucsia indovinate chi l'ha scelta e boh io sono team doccia quindi insomma non ne sono tanto felice ma va bene così il bagno diciamo che è la parte più brutta della casa secondo me là dietro teniamo tutte le cose per lavarci quello là sopra da bambini è quello con cui laviamo Simba qua c'è la cosa che ci si può fare la doccia e sopra c'è uno di quegli stendini che con questo attrezzo si tirano giù e si può stendere qua però a me non piace perché è veramente lungo e quindi di solito uso lo stendino normale e lo metto lì all'ingresso quindi abbiamo detto faccio girare la testa scusatemi sulla destra lavatrice poi anche qui la porta la stessa questione la stessa porta con il vetro satinato sopra la lavatrice c'è il boiler perché noi abbiamo il boiler poi dietro la porta teniamo lo stendino poi qua asciugamani tappetino per asciugarsi i piedi e la doccia tappetino sotto il bagno cioè sotto il lavandino qua abbiamo il lavandino che non è malvaso ha solo poco spazio per metterci le cose infatti allora qua teniamo le cose per se si fa male cerotti eccetera qua ho le mie cose da donna con le varie cremine qua niente di interessante sono i prodotti per pulire qua altre mie maschere eccetera qua altre mie cose vi direte Daniele dove tiene le cose? aspettate in questo piccolo mobiletto questo reparto è il suo questo è mio tutto il resto è mio tranne quello in mezzo che è di tutti e due perché entrambi puliamo qua appunto abbiamo il lavandino con il sapone il mio spazio elettrico il dentifricio attaccato con questa cosa fighissima che tu giri e non sprechi il dentifricio possiamo girare vi accorgerete subito di una cosa Alice ma dov'è il bidet? no in questa casa non c'è il bidet quindi o c'è la vasca o le salviettine che teniamo lì comunque qua c'è l'asciugamano per le mani qua abbiamo i cesti dei panni per quelli di cotone normale i colorati ecco prima facevo discorso che voglio cambiare qualche mobiletto lo vedete questo è il classico carrellino dell'Ikea che gira già quando noi abbiamo preso la casa e io vorrei mettere al posto di questo un mobiletto un po' più alto tipo alto così dove sopra ci metto quella cosa dei trucchi nera che vi ho fatto vedere in camera da mettere qua qua sopra però ancora non ho trovato quello giusto voi che dite ci starebbe bene comunque qua niente di che ho le cose per i capelli salviettine di ricambio questo è il cestino del bagno molto bello un sacchetto frazzoletti e cose per lavarsi shampoo amuchina queste cose niente di interessante vedete dice ma cosa come mai dice che non hai spazio cioè guarda che mobile enorme che hai no hanno pensato non di mettere un mobile ma di mettere delle scarpiere sono tutte scarpiere questi ripiani che vedete tutti tutte scarpiere quindi non ci stanno prodotti no sopra questo mobile lo usiamo per mettere la carta igienica gli asciugamani del cane qua dentro ci sono gli stracci poi c'è il vc dietro appunto qua ci tengo gli assorbenti in questa scatolina era di una candela dell'Ikea salva slip e sotto ci sono gli assorbenti blu che sono quelli che uso io salviettina appunto perché non c'è il bidet nell'evinenza eccole questo qua che il profuma si può dire a carta igienica che è finita va bene ma per fortuna abbiamo le scorte dietro c'è l'acqua distillata per il ferro da stiro e voi direte ma Alice ma dove lo tiene il ferro da stiro che non ci ha fatto vedere niente bene mi sono dimenticato ovviamente di dirvi una cosa cimbi nel frattempo si è trasferito perché questo qua è un letto contenitore adesso non ve lo alzo perché è troppo pesante con una mano non riesco ma sotto teniamo tutte le cose che voi dite ma in una casa ci deve essere Alice dove ce l'ha sotto il letto bene ora proseguiamo quindi qua c'era l'ingresso abbiamo visto questa camera abbiamo visto il bagno ora ci giriamo completamente bene siamo arrivati qua c'è anche un Daniele che gioca se vuole salutare ciao amici del tubo bene appena si entra sulla destra abbiamo tutte le bottiglie d'acqua ovviamente sono quelle di plastica ma che riutilizziamo che andiamo a prendere alla fontana quella dove metti il soldino e lei ti dà l'acqua anzi in realtà è gratuita dove la prendiamo noi si paga solo quella frizzante poi c'è un divano di questo bellissimo azzurro blu in realtà sotto è grigio Daniele sta giocando cosa stai giocando Daniele? Dark Soul Dark Soul ecco qua va bene comunque c'è questo copridivano con sopra una coperta i cuscini e il muro arancione con queste pennellate a mo' di coda di pavone non lo so così poi se ci giriamo lì è l'ingresso dove siamo arrivati c'è il cucinino messo così avviciniamoci allora subito qua vedete questo quadrettino in cui c'è scritto chi lotta può perdere chi non lotta ha già perso che è un quadrettino che avevo preso a view a tornetti per chi fosse della zona è fatto a mano da un artigiano ma tanti anni fa poi qua sotto ci sono le ciotole del cane sì ne ha due così ogni tanto chiudiamo la porta della camera da letto almeno lui può bere sempre mi raccomando sempre acqua sotto abbiamo i cestini con i sacchetti biodegradabili che vanno bene per tutto noi mi raccomando li utilizzate sempre quelli della spesa che sono biodegradabili sono perfetti per la raccolta differenziata sopra c'è questo scomparto dove mettiamo il microonde che potrebbe andare giù perché è fissato e di quelli a baldacchino ma non lo tiriamo mai giù ovviamente abbiamo appunto il microonde della samsung sopra teniamo di solito i dolcietti appena fatti comprati questa è una torta all'acqua al cacao che avevo fatto ne abbiamo già mandato a metà oggi poi ciambelline e qua dentro c'è una una brioche un saccottino poi bilancia tutta macchiata perché noi siamo sporchi la macchina del caffè senza cialde perché devono ancora arrivare sopra teniamo lì c'è della farina di castagne che devo usare una bottiglia di vino la bottiglia del berlucchi che abbiamo vinto all'esse lunga la teniamo come ricordo perché è la prima che abbiamo aperto in questa casa poi abbiamo queste cassettiere in cui ci sono cianfrusaglie vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa cianfrusaglie non ve le so ad aprire abbiamo il calendario dei canini dei gattini ci sono sia i canini che i gattini ecco qua poi girandosi c'è semplicemente il piano cottura qua per fortuna c'è la lavastoviglie questa è una lavastoviglie ah vediamo se riesco ad aprirla voilà qua invece sono i mobili dove teniamo le capsule le cose per pulire qua dove teniamo i sacchetti è la tannica dell'olio lavandino con lo svelto e tutto qua c'è un altro mobiletto in cui teniamo le spezie il sale lo zucchero lì sopra niente perché è troppo in alto e qua invece sarebbe lo scolapiatti ma noi non lo usiamo mai quindi è tutto vuoto ci sarebbe però sopra un ripiano che si può usare poi girandoci del tutto abbiamo appunto il nuovo divano davanti al divano abbiamo il frigo ecco qua il frigo con sopra il freezer il bello è che il freezer qua ci mettiamo la risa della spesa qua dei foglietti sono con la calamita anche uno scomparto sopra dove le cose che non vuoi si vedono pam le metti lì ce n'è anche un altro là sopra ma non ci arriverò mai per aprirlo è uno scomparto dove teniamo tutte le garanzie degli elettrodomestici poi è una casa semplicissima ecco qua qua magari non vi apro tutto perché ci sono semplicemente posate pentole strofinacci tè e queste cose qua poi visto che siamo in periodo pasquale un coniglietto la stampante il vecchio computer di Daniele voi direte cos'è questa lì c'è cos'è è una zampa di un pupazzo di Simba che devo ancora aggiustargli poi abbiamo la tv che voi direte vista così sì bella grande così ma come fai ad aprire i mobiletti lo so me l'hanno detto tutti ma in realtà al pelo pelo tutti i mobiletti si aprono beh ve l'avevo detto qua ci sono solo bicchieri un po' di dispensa anche da questo lato si aprono tutti e due ecco qua sopra la tv abbiamo una delle mie parti preferite dove decoro un po' di più abbiamo questa non so mensola in cui adesso è decorata a tema pasquale ecco qua con anche ancora le mimose dei quadretti dei povicini delle statunine di Harry Potter delle monetine una penna insomma è decorata così per ora sopra appunto c'è lo solito vetro delle porto teniamo le stoviglie e poi se ci spostiamo più a destra c'è il forno sopra c'è un altro scomparto dove abbiamo tutte la varie dispensa e poi sotto qui c'è guardate chi è arrivato perché ha visto aprire il suo mobile chi è arrivato è il tuo mobile e questo c'è il mobile del cane le sue crocchette i suoi cosini sì ora mamma ti dà uno snack vuoi uno snack mami mami snack eh facciamo vedere alle ragazze e ai ragazzi che anche tu mangi i snack fai vedere Simba seduto seduto amore adesso non mi ascolta ma Jimmy ma me lo fai sempre vabbè la prestazione della telecamera glielo diamo lo stesso vi giuro che seduto lo fa sempre forse perché io lo faccio con la mano destra adesso con la mano destra sto inquadrando comunque qua ci sono tutte le sue cosine poi ci giriamo c'è il tavolo appunto in questo caso ci sono le tre uova che è sempre del periodo pasquale scotex un Daniele selvaggio arrabbiato perché io ho staccato il filo della playstation scusa camminando perché è in mezzo non si può fare altrimenti bene poi dietro il il tavolo c'è un altro di di questi qua che ci sono anche in cucina che ora non mi viene di nuovo in mente il nome davanzale dove ho le piantine allora abbiamo questa bellissima orchidea regalata da Daniele questa piantine che non so il nome che ho comprato io e poi i mini cactus ma ragazzi c'è volete notare questo cactus ha fatto i fiori allora voi avete un cactus che fa i fiori è un cactus se voglio farci vedere meglio è proprio un cactus che ha fatto tutti i fiori devono ancora spuntare e sono bellissimi perché di sera si chiudono e di giorno si aprono poi qui dentro si qui dentro di fianco abbiamo un'altra pianta grassa simile a l'oe poi due belle finestre un'altra finestra allora provo ad uscire fuori per farvi vedere il balcone se c'è troppo casino non mi sentirete allora il balcone è strettissimo perché vedete qua ci sono i miei piedi all'argotolo di più di così non ci sta nemmeno una sedia però è lungo lunghissimo adesso siamo un po' contro luce comunque qua è la cucina appunto che vi ho fatto vedere qua tengo il posacenere si passano anche i pullman perché qua c'è appunto la strada sotto abbiamo le due ioli condominali poi andando avanti queste sono le finestre della camera andiamo andiamo avanti magari ora mi giro così siete meno contro luce vedete è lungo così qua è l'unico punto in cui è più largo perché c'è questa rientranza se non è proprio stretto stretto ecco ora anche Simba questo è quello che si vede insomma tutto normalissimo bene il video si conclude qui vi ringrazio a tutti per aver visto il video mi raccomando fatevi sapere se avete qualche consiglio e come ha girato questo telefono nuovo le riprese e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video mi raccomando se vi va seguitemi anche su Instagram mi trovate come chioccio l'aricelatte trattino basso ma tutto scritto sotto nell'info un bacione buona Pasqua se non è ancora passata non so quando chiuderemo il video ciao ciao